Bambini ma anche anziani, questi sono i programmi del Rotary Club Pallanza Stresa, nell'anno che verrà gestito poi da Nicoletta Carboni. Ora, un programma ad ampio respiro, verrebbe volere di dire? Assolutamente sì, un programma che guarda il territorio, perché la necessità è il nostro territorio e noi vogliamo essere sul territorio. Saremo sul territorio con un service per i bambini autistici che è nella memoria del nostro settantesimo di fondazione, un ambulatorio che verrà donato alla SLVCO, responsabile del servizio, la dottoressa Stefania Vozza, e un ambulatorio completo per questi bambini che hanno dei problemi, come voi sapete, di colloquio e devono essere seguiti con tutto quello che noi possiamo dare. Un problema è l'anziano, siamo partecipi della cura e di casa e siamo continuativi su questo service, perché sono già due anni che noi stiamo partecipando a questo service e abbiamo integrato il service con Tichiamo, che è un service a livello nazionale, per cui siamo proprio a 360 gradi, ci stiamo interessando sul territorio a 360 gradi. Voi nelle vostre attività non soltanto vi impegnate direttamente, ma coinvolgete anche la gente, anche i cittadini. In che modo le persone comuni, normali della Stata, possono essere in qualche modo partecipi dei vostri progetti, perché oltre all'opera di sensibilizzazione che già fate? Noi cerchiamo in questo momento di essere sensibili su tutti quelli che sono anche i canali dei media. Cerchiamo di essere su Facebook, cerchiamo di essere su Twitter, cioè in modo tale che tutti, anche i giovani, possano capire che il Rotary è un servizio per il territorio e per la popolazione. A questo riguardo voglio anche dire che abbiamo iniziato un programma, che è un altro service, che si chiama Il Devero è per tutti, ed è l'intenzione con la struttura del Parco del Devero e del Comune di Baceno di istituire un sentiero per i disabili, con cui potranno andare con le carrozzine, avendo un sentiero ben prestabilito, dove possono andare senza nessun problema.